La Vespa velutina è arrivata in Abruzzo, l'insetto detto anche calabrone dalle zampe gialle proviene dal sud-est asiatico e già da alcuni anni è stato avvistato prima nel nord Europa, tant'è che l'Unione ha predisposto dei fondi appositi e poi anche in Italia, Abruzzo compreso, a lanciare l'allarme e il Rotary Club, che sull'argomento ha già organizzato un incontro online con gli enti preposti. Avvistamenti sia nelle Marche che in Abruzzo, io ne sono testimone, ne ho prese due di queste Vespe velutine. La Vespa velutina è aggressiva nei confronti dell'uomo, ma quanto le Vespe europee. È però più temibile per le api, il loro alimento preferito, che rischiano così di essere decimate da un nuovo predatore. Il problema più grosso è che queste Vespe, Vespe killer, si nutrono delle proteine delle api, tradotte in cifre, le uccidono e si nutrono dell'addome delle api. E questo si evince da soli che è un danno enorme per l'ecosistema, per l'equilibrio dell'essere umano. L'auspicio del club è quello che si inizia a monitorare la diffusione di questa Vespa asiatica. Io credo che dovremmo fare come hanno fatto le altre regioni. La Liguria, ad esempio, attingendo dai fondi LIFE europei, per quattro anni ha creato un portale che si chiama Vespavellutina.it, dove c'era la possibilità di denunciare, di fare un track, una tracciabilità delle Vespe e dei nidi. La cosa importante è quindi, oltre alla sensibilizzazione, creare delle tavole rotonde, degli incontri, degli agorà, dove possiamo trovare con degli esperti non solo lo sviluppo di questa Vespa sul territorio, ma soprattutto trovare le risoluzioni. Grazie. Grazie.